Musica Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento sull'Italia, il tempo è in via di miglioramento sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di sabato 4 maggio. Sul Veneto la giornata parte con una residua instabilità. Sarà infatti possibile ancora qualche piovasco sparso, a seguire asciutto e ampiamente soleggiato. Le temperature saranno in aumento, minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese tra 16 e 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino sarà nuvoloso con qualche locale debole precipitazione, col passare delle ore ampi e schiarite e cielo velato. Temperature minime sui 5-12 gradi, massime comprese tra 17 e 20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo come di consueto alla situazione del Trentino Alto Adige. All'inizio avremo qualche rovescio sparso, a tratti invece sarà più soleggiato nel pomeriggio. Temperature minime sugli 8-9 gradi, massime intorno ai 20-22. Dal Meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.